Da metà luglio la campagna vaccinale delle Marche potrebbe andare avanti solo con le seconde dosi. E' questo il quadro che si evince dal sistema delle prenotazioni al vaccino che riduce ad un dato sempre più residuale la prenotazione alle prime dosi del siero. Ad oggi potrebbero infatti bastare una decina di giorni per terminare le prenotazioni attualmente nell'agenda regionale. Si è infatti esaurita la spinta al vaccino degli over 60 immunizzatisi per oltre l'80% della popolazione. L'adesione al vaccino degli over 40 si è mantenuta superiore al 60% mentre sotto i 40 anni non c'è stata la corsa al vaccino. Fra i 20 e i 40 anni si è infatti prenotato al vaccino appena un marchigiano su due. La campagna di prenotazione senza limiti di fascia anagrafica è aperta da quasi un mese e al di là di qualcuno che può prendersela comoda pensando di rimandare la prima inoculazione dopo l'estate, è improbabile pensare che il dato attuale subirà grossi scossoni. I numeri del contagio estremamente bassi sembrano attenuare la criticità, mentre l'attenzione alla variante delta suggerisce tutt'altro. Nelle Marche sono al momento 5 i soggetti positivi al Covid-19 nella cosiddetta variante indiana, ritenuta del 40% più trasmissibile di quella inglese. Tre casi sono stati registrati in provincia di Macerata, uno in provincia di Ascoli e uno a Senigallia. La cabina di regia regionale sta lavorando assieme ai laboratori di virologia sul tracciamento dei cluster e allo stesso tempo sta rilanciando la sensibilizzazione ad aumentare quella percentuale di vaccinati che avvicini il territorio all'immunità di gregge.